Girato all'interno del Parco Hotel Mirabeau, Runner è in uscita al cinema giovedì 8 febbraio per la regia di Nicola Barnab. Un film con Matilde Gioli, Francesco Montenari, Flora Contrafatto, Anna Wagnerova e Pino Torcasio. Con Runner, Barnab avvira verso l'action thriller, affermando un film che fa dell'unicità spaziale dell'albergo isolato in cui è ambientata la vicenda l'ingrediente principale. Con il Parco Hotel Mirabeau, affare da scenario ideale di un film a metà tra thriller e action movie. Si svolge tutto in una notte, dal tramonto all'alba, e si inserisce nella tradizione del cinema d'azione che ha visto il suo momento d'oro negli anni 80. Runner, infatti, si ispira a film di intrattenimento che hanno avuto un boom in quegli anni, come ad esempio Arma Letale. Ma non solo, perché Runner offre una visione originale, considerato che non è comune che vi sia una donna al centro di un film d'azione, come in questo caso. Andare al cinema per vedere Runner, che dal prossimo 8 febbraio sarà proiettato nelle sale per noi calabresi, sarà anche l'occasione di apprezzare una location, il Parco Hotel Mirabeau, che si affaccia sulla affascinante costa ionica calabrese. Grazie. Grazie.